In ibrido con la presenza in sala e con quella a distanza che in modo da permettere a tutti di partecipare, quindi non perdo altro tempo in ciance perché voi siete qui soprattutto per la conferenza e per le informazioni che i nostri oratori ci forniranno e che noi siamo contenti di ospitare perché nelle missioni di un sindacato ci sono anche quelle di cercare di aiutare i colleghi nelle relazioni con le amministrazioni nazionali che sono spesso estremamente complicate. Quindi lascio direttamente la parola a Alessandro che può presentare gli oratori. Scusandoci ancora per l'inconveniente tecnico. Grazie Cristiano, buongiorno a tutti. Anch'io sarò velocissimo per cercare di recuperare il tempo perso. Due parole soltanto per presentare la sezione Anfi di Bruxelles Unione Europea. La Guardia di Finanza è presente all'interno delle istituzioni europee dall'ottobre del 1990, quindi a ottobre faremo 32 anni di presenza dove abbiamo dato un grosso contributo a tutte le politiche antifrode, anticriminalità a livello europeo e dal 2014 con il pensionamento delle prime persone uscite sia dalla Guardia di Finanza che dalla Commissione Europea è stata creata questa sezione dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia che si chiama Bruxelles Unione Europea. È l'unica sezione dell'Anfi all'estero, si trova a Bruxelles e sottolineo anche che oltre che Bruxelles si chiama Unione Europea perché lo spirito europeista di tutti i suoi membri, la maggior parte dei quali sono passati dalle file dell'istituzione europea e in modo particolare della Commissione, mira a cercare di far conoscere e di spiegare bene l'Italia in Europa e l'Europa in Italia, soprattutto negli ultimi anni in cui c'è stato bisogno. In questo contesto chiaramente uno dei compiti principali della Guardia di Finanza è la lotta all'evasione fiscale, la tutela del bilancio nazionale e anche quello di quello comunitario, quello dell'Unione Europea, quindi per essere dei bravi cittadini, dei bravi patrioti come dico io italiani ed europei bisogna contribuire al bilancio nazionale ed europeo e quindi di pagare le proprie tasse. Pagare le tasse in Italia non è sempre cosa facile, lo sappiamo tutti, è una legislazione fiscale tra le più complesse e complicate d'Europa e questo coinvolge anche i funzionari domiciliati in Italia ancora fiscalmente ma in servizio presso le istituzioni europee perché a volte, soprattutto in passato, prima che cominciassimo noi questa opera di sensibilizzazione, molti non sapevano neanche che seppur vivendo da 20 anni, da 30 anni qua a Bruxelles, in quanto funzionari dell'Unione Europea ancora in servizio, restavano e restano ancora obbligati alla loro attività contributiva nei confronti dell'Italia. Quindi questo è il tema di questa conferenza di oggi. L'anno scorso, siamo al terzo anno che organizziamo questa conferenza, l'anno scorso l'abbiamo fatta con il Comites, quindi come spirito di servizio della nostra associazione che è assolutamente volontaria e quindi si tratta tutto di volontariato. Abbiamo voluto quest'anno ripeterlo con Renuvoi Democrazia, il principale sindacato dell'Unione Europea, proprio per offrire il nostro servizio, ripeto, gratuito e assolutamente volontario, nei limiti delle nostre possibilità. Ecco, prego di non pretendere cose impossibili perché tutto quello che è fatto, compresa questa conferenza oggi, anche con qualche problema di carattere tecnico, è fatto a titolo assolutamente di volontario, quindi non abbiamo nessun obbligo, è uno spirito di servizio che offriamo ai colleghi dell'Istituzione Europea e tutti i cittadini italiani. Allora, presento oggi gli oratori, abbiamo qua Pierpaolo Rossi che è il vicepresidente della nostra sezione, ma è anche avvocato e signor member del servizio giuridico della Commissione Europea e Francesco Fratini, avvocato, docente universitario, che è venuto socio della nostra sezione, appartenente in congetto della Guardia di Finanza ed è venuto appositivamente da Roma, proprio per rendere questo servizio che vogliamo offrire a tutti quanti voi. Quindi passo subito, senza indugio, la parola al collega Rossi. Grazie per l'organizzazione di questa conferenza, penso che molti di voi mi conoscono già, comunque mi presento ancora una volta, sono Pierpaolo Rossi del servizio giuridico, in questa occasione parlo effettivamente a titolo personale, non rappresento certo l'istituzione, né l'istituzione Commissione Europea, né le istituzioni italiane, tanto meno, anche se sia un ex della Guardia di Finanza e ormai da parecchi anni qui a Bruxelles. Quindi andiamo avanti senza indugi e dunque l'obiettivo un pochettino di questa conferenza è farvi un quadro generale di quelle che sono gli elementi pilastri portanti degli obblighi che i contribuenti italiani hanno di dichiarare il possesso di, la disponibilità di investimenti o conti correnti o altre attività all'estero. E diciamo di fare un quadro generale perché capendo la logica di queste misure, noi possiamo risolvere molti problemi di carattere pratico che sono sicuro vi assillano e vi assilleranno sempre di più nel futuro. Purtroppo questo è il messaggio che vorrei lanciare e in sostanza come vedremo tra breve, grazie a questo quadro generale che ho preparato per voi, c'è stato un cambio di marcia a partire dalla crisi finanziaria internazionale del 2008 che ha portato in sostanza a un'esigenza al fine di consolidare i bilanci nazionali, i vari stati, non solo gli stati membri dell'Unione Europea, ma stiamo parlando di un fenomeno globale, quindi le varie nazioni hanno cominciato a stringere le maglie della evasione cosiddetta o frode o elusione, ci sono parecchie definizioni, fiscale internazionale. E quindi per arrivare a questo obiettivo, cioè quello di cercare di controllare in maniera sempre più stringente e puntuale gli investimenti che dei residenti in un paese effettuano in un altro paese e che sono gli investimenti che sfuggono normalmente alla tassazione, perché quello che avviene all'interno di uno stesso paese è normalmente controllato efficacemente, ci sono strumenti adeguati a livello nazionale resistenti, quello che era da migliorare era la collaborazione internazionale per ottenere le informazioni circa gli investimenti che un soggetto domiciliato in uno stato qualsiasi deriva, e quindi i redditi che deriva da investimenti effettuati in altri stati. Questo è il problema e questo non è un problema nuovo, ma a partire da un certo periodo storico che è quello della grande crisi finanziaria, è stato affrontato di nuovo, è stato riscoperto e riesaminato di nuovo dagli stati in cooperazione tra di loro in questa organizzazione che si chiama LOX e hanno portato a delle soluzioni in gran parte innovative a questo problema, con ricadute però sui contribuenti, specialmente sui contribuenti come i funzionari, in questo caso i funzionari italiani, ma lo stesso ragionamento si applica anche per i funzionari degli altri paesi membri, quindi per i funzionari delle istituzioni o comunque per i funzionari nazionali che sono distaccati in altri stati membri e che quindi derivano necessariamente per ragioni derivanti dal loro servizio prestato all'estero, tutti i loro redditi o almeno la gran maggioranza dei loro redditi e soprattutto effettuano perché vivono all'estero investimenti in loco, cioè all'estero, quindi come questi soggetti si interfacciano con queste nuove regole e quindi in sostanza uno dei problemi che diverranno sempre più frequenti è dato dal fatto che per questo tipo di contribuenti come questi funzionari che lavorano all'estero, è dato dal fatto che le misure che sono state prese dagli stati cominciano ad arrivare a fruizione, nel senso che queste misure comportavano un scambio di informazioni, questo scambio di informazioni avviene in forma automatica e coinvolge gli intermediari finanziari con i quali io come voi hanno a che fare tutti i giorni per la vita quotidiana, per pagare il mutuo, per incontrare un mutuo, per comprare la casa, per investire, giustamente perché viviamo non solo dello stipendio ma probabilmente anche dei risparmi che mettiamo insomma, e l'oggi non c'è niente di vietato in questo senso, ma che mettiamo in investimenti. E quindi queste informazioni sulle quali noi non abbiamo un controllo, perché esiste un rapporto diretto tra le istituzioni finanziarie, l'autorità fiscale del luogo, nel caso della commissione a Bruxelles, si tratta dell'autorità fiscale belga e l'autorità fiscale, nel nostro caso italiana, quella di residenza fiscale del soggetto in sostanza. Quindi senza che noi abbiamo la possibilità di verificare i dati che vengono scambiati, questi dati vengono scambiati e hanno cominciato ad essere scambiati in maniera inizialmente un pochettino farraginosa nel 2017, noi siamo adesso nel 2022, normalmente l'amministrazione finanziaria mette in accertamento l'ultimo anno possibilmente rettificabile, che sarebbe il sesto anno a partire dal 2022. Quindi questo vuol dire che, e questo ci porta diciamo più o meno al 2018, quindi in questo momento l'amministrazione sta guardando quello che sono le comunicazioni che sono state fatte e che originano da queste istituzioni finanziarie e le sta guardando e le sta riscontrando con le dichiarazioni fiscali. Quindi ciascuno di noi, siccome siamo stati almeno all'inizio dei soggetti, degli italiani in sostanza, abbiamo avuto questo codice fiscale che è attribuito, questo codice fiscale in sostanza è un identificativo che viene attribuito al soggetto, al nome del soggetto, una volta che le informazioni su quel soggetto arrivano all'amministrazione finanziaria. Quindi c'è questo riscontro, l'amministrazione finanziaria per a conoscenza del fatto che Pierpaolo Rossi ha 5 conti correnti a Bruxelles, attribuisce a Pierpaolo Rossi il codice fiscale e va a vedere la dichiarazione dei redditi del 2018 di Pierpaolo Rossi e scopre che lui non ha presentato la dichiarazione dei redditi. Ora, questo è quello che sta succedendo e quello che succede in sostanza in concreto è che l'amministrazione invia, non è che subito manda un avviso di accertamento a Pierpaolo Rossi, ma manda delle lettere perché è ragionevole pensare che ci siano delle discordanze come in effetti ci sono nel 100% dei casi, tra delle discordanze che sono però spiegabili tra quello che le banche e gli intermediari finanziari comunicano e quello che è invece la realtà che dovrebbe tradursi nella dichiarazione dei redditi e che il soggetto dovrebbe aver presentato. Quindi l'amministrazione essendo a conoscenza che ci possono essere degli errori, anzi è molto probabile che ci siano degli errori, l'amministrazione effettua una comunicazione che si chiama l'invito a compliance, in sostanza c'è questo termine inglese, cioè una comunicazione bonaria in cui chiede spiegazione in sostanza. Quindi tutta questa premessa, e poi cerchiamo di seguire un po' l'ordine della presentazione, è per dirvi che questa presentazione di oggi è per darvi questo quadro, per allertarvi su questa realtà che sarà sempre più presente nel nostro futuro, perché i dati continueranno a fluire, saranno sempre più dettagliati e comporteranno, ci sarà sempre più pratica, sempre più prassi e quindi l'amministrazione anche evolverà convergendo verso le interpretazioni che sono le più consone a risolvere questi problemi di discordanza. Questo vuol dire che rimarranno in sostanza aperte le situazioni di vere e proprie irregolarità, quindi la conferenza di oggi è per allertarvi sul fatto che bisogna in sostanza dichiarare certe cose e quindi dirvi che cosa bisogna dichiarare in modo tale che tra cinque anni almeno, magari questo non è successo fino adesso, ma tra cinque anni quando l'amministrazione sarà veramente già avanzata e arriverà delle forme di controllo e di accertamento molto più puntuali e mirate, voi sarete pronti auspicabilmente a dire che questo qui è vero, ammetto che ho fatto questo errore, poi vedremo anche con l'avvocato Fratini, lui ha un paio un pochettino più pratico e ciò vi dirà come sanare anche le situazioni del passato, cosa che è possibilissima, senza dei costi giganteschi è possibile sanare le situazioni del passato, anzi è consigliabile perché questo permette in sostanza di pagare le sanzioni almeno in forma ridotta ed evitare anche che continui a accumularsi il peso degli interessi perché ogni volta che c'è una violazione, stiamo parlando soprattutto di violazioni di carattere sostanziale, cioè il non aver versato le imposte corrispondenti, queste violazioni comportano sempre l'applicazione di interessi, c'è l'ammontare dell'imposta che è stata omessa, evasa in questo caso e poi c'è l'applicazione di interessi e poi ci sono anche le sanzioni, quindi le sanzioni vengono ridotte e l'ammontare degli interessi viene ridotto perché voi intervenite prima con questa formula della rettificabilità delle dichiarazioni, cosa che è aperta senza limiti di tempo, non c'è alcun limite del sistema italiano, noi siamo entrati da una fase in cui si facevano dei condoni ad hoc, non so se ve lo ricordate, adesso siamo in una situazione di condono permanente, in sostanza si può cambiare tutto a qualsiasi momento andando nel passato, certo non è un proprio condono perché bisogna pagare tutto, però le sanzioni se non altro sono di carattere ridotto. Altro punto importante di questa presentazione, altro messaggio molto importante, forse il più importante, è che le sanzioni che noi dobbiamo pagare sono soltanto le sanzioni relative alle violazioni di carattere sostanziale, cioè effettivamente quando noi non abbiamo versato qualche cosa che avremmo dovuto versare, non dovremmo pagare invece le sanzioni che sono connesse alle violazioni degli obblighi cosiddetti strumentali, per esempio gli obblighi dichiarativi e vi spiegherò durante la conferenza perché, anche perché questa interpretazione, parlo sotto il controllo dell'avvocato, questa interpretazione non è assolutamente pacifica, però per quello che vi dirò, questo dovrebbe essere il punto finale del ragionamento, per quello che adesso non vi voglio anticipare troppo, per quello che vi dirò. Tutto parte da questo provvedimento, questo è una cosa che è il nostro nemico principale, è il DL 167 del 1990 sul monitoraggio degli investimenti esteri, questa non è una misura di cui vi ho parlato prima, perché del 1990 non riguarda affatto questa intensificazione dello scambio di informazioni e così via, ma è un regime generale che esiste da sempre e che è mirato ai soggetti residenti che effettuano degli investimenti in altri stati. Ora, voi tutti siete al corrente del fatto che all'interno dell'Unione Europea, come siamo noi, esistono delle libertà fondamentali, tra cui c'è la libertà libera circolazione dei capitali e quindi anche la libertà di investimento e anche la libertà di stabilimento che è quella che esercitiamo in sostanza tutti i giorni, perché noi siamo dei soggetti italiani che si sono stabiliti per motivi di lavoro in un altro paese. Quindi in ambito europeo ci siamo fortunatamente protetti da queste libertà, però il trattato prevede che è vero che esistono queste libertà, però queste libertà non possono andare a incidere su degli obblighi fiscali che legittimamente un legislatore nazionale mette per assicurarsi che i soggetti, i propri contribuenti paghino le imposte. Quindi quello che effettivamente costituisce una violazione di questa libertà di movimento dei capitali è soltanto una misura fiscale che è troppo restrittiva, sproporzionata rispetto all'obiettivo che deve raggiungere e che soprattutto discrimina gli investimenti fatti in altri paesi dell'Unione Europea rispetto degli investimenti che sono fatti in Italia. Comunque obiettivamente per questa disciplina che è una disciplina che ha origine da quando c'è stata l'abolizione dei controlli dei movimenti di capitali nell'Unione Europea, a un certo punto c'è stata una direttiva che ha rimosso tutti quanti i controlli, prima esistevano i controlli sui movimenti di capitale. Quando io facevo servizio nella Guardia di Finanza, ero al confine con la Francia e sequestravo la gente che usciva con più di un certo ammontare di denaro liquido o che aveva un assegno per esempio in tasca, lo arrestavo, lo dovevo addirittura arrestare e era un po' ridicolo ma insomma arrestavo un sacco di gente che ci aveva scordato l'assegno o viaggiava con la carta di credito, una cosa subita, ma quello era assolutamente una cosa vietata. Quindi fortunatamente non c'è più questo, però è rimasta questa disciplina. Questa disciplina è una specie di succedaneo alle restrizioni dei movimenti di capitale, senza però essere una restrizione dei movimenti di capitale, perché quello che è l'obiettivo della disciplina è semplicemente monitorare. Ora, monitorare perché? Perché c'è un interesse dell'amministrazione di conoscere e conoscere che cosa? L'oggetto del monitoraggio sono gli investimenti patrimoniali, quindi qualsiasi cosa voi compriate all'estero che abbia però questo acquisto, la possibilità di generare dei redditi, quindi tutto ciò che è suscettibile di produrre redditi di fonte estera che sono imponibili in Italia, perché imponibili in Italia nel senso che si riferiscono a soggetti che sono italiani, perché quando un soggetto è residente fiscalmente in Italia è tassabile in Italia sul reddito prodotto a livello mondiale, perché è un contribuente italiano e solo a base del principio della residenza, lui deve le imposte, indipendentemente da dove ricava i propri redditi, deve pagare le imposte in Italia. Poi esiste un altro principio che è il principio della fonte, per cui lo stesso soggetto può essere sottoposto a imposizione anche nel luogo dove produce il reddito, però questi due principi si applicano congiuntamente, non è siccome ho prodotto il reddito in Belgio, ho la casa in Belgio e pago il precont in Belgio, allora sono escluso dalla tassazione in Italia perché quello è un reddito belga, no non funziona così, il principio di residenza coinvolge tutti i redditi guadagnati, maturati a livello mondiale, si sovrappone, quindi c'è un'area di sovrapposizione che si chiama la doppia imposizione internazionale e questa sovrapposizione riguarda la tassazione nel luogo della fonte dove i redditi sono prodotti. E poi ci sono dei meccanismi che sono nei trattati per evitare le doppie imposizioni per eliminare questa doppia imposizione internazionale. Quindi prima categoria sottoposta al monitoraggio, gli investimenti, tutto ciò che può produrre reddito come per esempio gli immobili. Gli immobili voi sapete anche se voi non li affittate e questo è anche il principio che si applica in Italia, il reddito che esce fuori da questo immobile, dalle mura di casa, che sarebbe il fatto che voi risparmiate l'affitto, questa sarebbe un po' la logica economica, quindi c'è questo reddito che è un reddito figurativo perché voi non incassate niente, però è un reddito che è sottoposto all'imposizione. Noi abbiamo un articolo del testo unico poste sui redditi che prevede la tassazione dei redditi immobiliari. La stessa cosa succede, anzi ha maggior ragione se voi avete un altro immobile dove non abitate ma lo date in affitto, lì c'è chiaramente un pagamento. Quindi questi redditi, quindi un investimento come l'acquisto di una casa è suscettibile di produrre redditi e quindi oggetto di monitoraggio. La stessa cosa è anche il possesso delle opere arte, dei preziosi, degli yacht, perché? Perché sono tutti degli oggetti che voi potete vendere e poteste guadagnare qualche cosa, una specie di plusvalenza dalla vendita di questi oggetti, quindi c'è un reddito e sono tutti dei beni suscettibili di produrre redditi. Quindi questa è la ragione per cui voi li dovete, secondo questo DL, sono soggetti al monitoraggio. La seconda categoria sono le attività di natura finanziaria, quindi questi sono veramente gli investimenti finanziari, cioè il fatto di fare dei prestiti, di acquistare delle azioni, delle obbligazioni, questi danno luogo a dei flussi di reddito finanziario e tra questi voglio segnalarvi la nuova categoria delle criptovalute, che so che voi avete una propensione a rischio molto elevata con le funzionali dell'Unione, perché siete venuti a lavorare poi per l'Unione Europea, che è praticamente molto rischioso, come Cristiano conferma, quindi avendo questa larga propensione potreste essere tentati di dire, adesso io comincio a darmi alle criptocurrency oppure acquistare dei token e così via, tanto che non sono manco tassabili, non c'è problema. In realtà non ci sono ancora delle regole internazionali che sono state definite, almeno a livello globale, però tutti gli Stati membri, compresa l'Italia, si stanno già attrezzando e hanno già avuto una serie di pronunciamenti dicendo che come no, l'acquisto della cryptocurrency è uno scambio e lì in principio c'è una plusvalenza che bisogna tassare, quindi in sostanza anche le criptovalute sono suscettibili di produrre reddito e quindi sono oggetto di questo monitoraggio. Adesso veniamo al punto della crisi del 2010 e quindi questo mutato scenario internazionale. In sostanza lo scambio di informazioni è una cosa che esisteva prima della crisi, ma la base globale dello scambio di informazioni, stiamo parlando di questioni internazionali, quindi la base è le convenzioni per evitare le doppie imposizioni che sono dei documenti, dei trattati, hanno forma bilaterale, quindi riguardano Stato e Stato, l'Italia ha moltissimi trattati internazionali di questo tipo e quindi l'Italia è pienamente integrata in questo sistema di scambio di informazioni che nei trattati si trova a questo articolo 26 del modello, è una specie di template dei trattati e che si utilizza per identificare le disposizioni, perché poi le disposizioni più o meno sono simili. I trattati sono bilaterali, ma si ispirano a questo modello che è unico e che è multilaterale, questo modello OXE, all'articolo 26, prevede lo scambio di informazioni. Ora, quello che è cambiato è che lo scambio di informazioni tradizionale era fatto su richiesta. Quello che è cambiato la rivoluzione copernicana è stata l'introduzione dello scambio di informazioni automatico e questo scambio di informazioni automatico la colpa è della Commissione europea, perché questo sistema dell'automaticità se l'ha inventato la Commissione per una vecchia iniziativa che adesso è stata abrogata, ma che si tratta della tassazione dei risparmi. È una storia molto complessa, comunque la Commissione, quindi poi gli stati membri hanno adottato all'unità questa direttiva che per la prima volta prevede il fatto che ci sia lo scambio di informazioni in forma automatica su certe forme di redditi, su certi tipi di redditi che sono percepiti da soggetti residenti in uno stato membro, ma percepiti da una fonte di un altro stato membro, quindi da una banca intermediario finanziario di un altro stato membro. In sostanza, secondo questa idea dello scambio automatico di informazioni, l'idea originaria era che ciascun soggetto doveva dare un consenso, perché c'era molti anni fa una cosa che si chiamava il segreto bancario, adesso non c'è più. Il segreto bancario comportava il fatto che fosse una violazione particolarmente grave della legge nazionale è il fatto che le banche comunicassero informazioni a chiunque sui investimenti fatti dai soggetti. E questo segreto, l'esistenza del segreto bancario è all'origine del grande fenomeno di illusione, di evasione internazionale che ha portato gli stati a prendere queste misure, quindi a passare allo scambio automatico di informazioni. Perché a livello internazionale il consenso è che quando ci sono degli investimenti che si chiamano investimenti di portafoglio fatti da un soggetto, da una persona fisica normalmente, non stiamo parlando di banche che fanno investimenti con altre banche o imprese, istituzioni finanziarie, stiamo parlando di persone fisiche, risparmiatori. I risparmiatori quando fanno degli investimenti di portafoglio in altri stati, lo stato dove l'investimento viene fatto normalmente gli concede l'esenzione, cioè non li tassa. E perché fa questo? Per attrarre questi risparmiatori, per dire che i risparmiatori venite da me perché io vi faccio lo sconto e non vi faccio pagare. Questa esenzione accoppiata con il segreto bancario ha portato chiaramente all'esplosione degli investimenti all'estero nascosti e quindi c'è il caso della Svizzera per l'Italia, il classico di quello lì che porta la valigetta di la Guardia di Finanza Lo Becca alla frontiera che portava i propri risparmi nella banca elvetica. E perché faceva quella valigetta? Perché non deve utilizzare l'intermediario italiano, cioè sarebbe stato più scomodo fare un Virmont ma sarebbe rimasta la traccia ovviamente. Quindi questa è in sostanza la… non ho capito che vuole… ok. Questa in sostanza è l'origine di questo scambio di informazioni automatico, sì, di questo scambio di informazioni automatico, cioè io sto andando un po' a braccio perché sto cercando di compensare, però vi sto dicendo tutto quello che vi dirò nelle slide successive, quindi poi potremo avanzare in maniera molto più veloce. Quindi in sostanza questa è stata l'idea che era sullo scambio di informazioni automatico e questo ha portato al problema che vi ho già anticipato. Ci sono differenti paesi perché questo scambio di informazioni automatico è prerogativa appunto degli stati, ciascuno stato deve aderire e ci sono stati alcuni stati che erano più veloci nell'adottarli e quindi hanno per esempio cominciato dal 2016 e questo determina l'anno nel quale le informazioni diventeranno accessibili alle autorità fiscali italiane e quindi in sostanza le lettere di invidi a compliance che arriveranno a vostro indirizzo. No, non è un fast adopter. Comunque adesso diciamo per quanto riguarda l'Unione Europea tutte queste regole sono state cambiate dal fatto che c'è una direttiva, c'è una direttiva che si chiama direttiva sulla cooperazione amministrativa, questa direttiva è del 2011 ma è stata modificata più volte e dal 2016 in sostanza è applicata dappertutto. Stiamo cercando di andare avanti, io intanto vi continuo a parlare così non perdiamo il tempo, quindi quello che è successo è che in Italia queste… Purtroppo abbiamo un altro problema tecnico, non riusciamo a far scorrere le slides, comunque penso che voi le avete a distribuire. Quindi in sostanza quello che è successo è che questi orientamenti di carattere internazionale hanno avuto poi traduzione in disposizioni italiane e per quanto riguarda l'Italia da segnalare sono il DL 78 del 2009 che introduce questi interventi anti-illusioni e anti-evasione fiscale internazionale e in sostanza introduce due cose, da una parte una presunzione per cui tutti i beni, gli investimenti sia di carattere patrimoniale che di carattere finanziario di cui vi ho parlato prima, che non sono stati correttamente dichiarati nel modello RW, che è questo modello, è un quadro della dichiarazione in sostanza, ma può essere anche un modello presentato a parte nel quale si dichiarano gli investimenti patrimoniali e finanziari, ma loro però non lo possono vedere. Quindi in sostanza il DL 78 del 2009 introduce questa presunzione per cui tutto quello che non è stato dichiarato o che è stato dichiarato in modo non corretto ai sensi del monitoraggio di cui vi ho parlato prima, si presume provenga da redditi, cioè in sostanza c'è una trasformazione che è una cosa un pochettino importante che voi capiate, cioè una cosa è l'investimento e una cosa è il reddito, cioè l'investimento è il 100%, il reddito è quello che si trae dall'investimento, cioè il rendimento e quindi sarebbe il 5%, il 10% se siamo molto fortunati. Però grazie a questo provvedimento c'è una presunzione per cui quello che non è stato dichiarato, cioè il 100%, nel caso non sia stato dichiarato, diventa tutto quanto reddito ed è una presunzione che ribalta, in sostanza non è una presunzione assoluta, è una presunzione di carattere relativo, però ribalta, all'effetto di ribaltare sul contribuente l'onere di dimostrare il contrario, quindi uno deve andare a trovare l'origine come ha acquistato la casa, cioè voi capite che è abbastanza oneroso. Secondo provvedimento è il raddoppio delle sanzioni, cioè qualora ci siano, si scoprano delle violazioni, sia di carattere formale, quindi vuol dire violazioni di quanto, di quello che si dichiara, sia di carattere sostanziale che vuol dire non pagare le imposte, cioè i versamenti fatti in maniera omessi o fatti in maniera ridotta rispetto a quello che si doveva versare, le sanzioni vengono aumentate. Questi sono i due provvedimenti che si accompagnano a questa rivoluzione a livello internazionale, questa lotta agli evasori fiscali internazionali. In più in Italia c'è un'altra cosa molto importante ed è l'introduzione che succede, ed è l'introduzione delle patrimoniali, chiamiamolo così il riordino delle patrimoniali. Allora, noi avevamo in Italia un'imposta sugli immobili che si chiamava lici, questa imposta per effetto di questo riordino è stata trasformata in una nuova imposta che si chiama l'IMU, però la natura è essenzialmente la stessa, si tratta di un'imposta patrimoniale, cioè lo stesso fatto di possedere un immobile è un fatto imponibile, è una patrimoniale, indipendentemente dal reddito che viene prodotto o meno. Assieme a questa introduzione in Italia dell'IMU si accompagna a livello internazionale l'introduzione di due patrimoniali, una è la patrimoniale sugli immobili e sarebbe lì via famosa, la seconda è la patrimoniale sugli investimenti, le attività, però gli investimenti non patrimoniali, ma gli investimenti esclusivamente di carattere finanziario e questa è una differenza molto importante, quindi c'è uno scollamento di cui vi prego di prendere nota tra l'oggetto del monitoraggio che riguarda il patrimonio, qualsiasi cosa che sia suscettibile di produrre redditi all'estero e poi la seconda componente del monitoraggio sono gli investimenti finanziari, qui l'IVAFE colpisce soltanto di investimenti, ma è una patrimoniale e in sostanza l'IVAFE è il parallelo, chiamiamolo così, dell'IMU, infatti si applica alle stesse aliquote dell'IMU nazionale e questo consente in sostanza anche creare questo parallelismo tra l'imposta nazionale e l'imposta sugli immobili detenuti all'estero permette di salvare l'imposta, perché se ci fosse, almeno nell'Unione Europea, se ci fosse un'imposta soltanto sulle case possedute all'estero, ma non ci fosse l'imposta corrispondente nazionale ci sarebbe una discriminazione e quindi questo sarebbe vietato dal punto di vista della libertà di investimento. La seconda imposta, l'IVAFE, è sempre una patrimoniale, il parallelo esiste in Italia ed è l'imposta di bollo, che però nessuno di voi paga perché in Italia viene prelevata direttamente dalle banche, quindi in Italia c'è la banca, l'intermediario finanziario nazionale che preleva ogni mese, credo, l'imposta di bollo, che è allo stesso livello dell'IVAFE, cioè sarebbe questo 1 per 1000, adesso il 2 per 1000 e sulla giacenza sui conti correnti o sugli investimenti, i prodotti finanziari. Quindi per questo l'IVAFE hanno questo parallelo nazionale, per questo sono compatibili con l'ordinamento unionale. Qui non c'è bisogno di soffermarsi, riguarda semplicemente il monitoraggio fiscale, per dirvi soltanto che prevede degli obblighi molto pregnanti, cioè in sostanza per noi adempiere al monitoraggio fiscale è una cosa impossibile, perché dovremmo fare la lista e ogni volta che uno va a comprare qualche cosa al supermercato dovrebbe un movimento estero su estero che dovrebbe essere monitorato. Ci sono state poi delle semplificazioni, però il principio rimane e per questo noi abbiamo una cosa molto importante che è questa deroga. Come ho spiegato prima, gli obblighi di monitoraggio, quelli sul patrimonio e sugli investimenti, sono molto dettagliati e molto complessi. Questi obblighi per certe categorie che comprendono tutti quanti i funzionari dell'Unione e anche i dipendenti dello Stato e delle regioni che sono all'estero, questi obblighi è che in sostanza per ragioni del loro servizio, poi ci sono anche la categoria dei trasfrontalieri che ha una deroga però più limitata di quella che abbiamo noi, quindi per questi soggetti che per ragioni del loro servizio sono all'estero, il monitoraggio non si applica. Quindi noi abbiamo questo jolly, non siamo sottoposti al monitoraggio e quindi questo è quello che mi porta a dire che in sostanza siccome il monitoraggio si traduce in obblighi dichiarativi, quindi tutte le violazioni che noi potremmo commettere nel non dichiarare determinati cespiti o quello che abbiamo all'estero, non dovrebbero comportare delle sanzioni perché noi non siamo sottoposti all'obbligo di monitoraggio e quindi noi in teoria non dovremo riempire questo famosissimo quadro RW dove il monitoraggio si concretizza. I funzionari dell'Unione, di tutte le istituzioni dell'Unione, i funzionari dello Stato che sono all'estero, i diplomatici, i funzionari delle rappresentanze locali che sono all'estero, che non siano diplomatici, sono più o meno paragonati, ci dovrebbero essere anche gli esperti nazionali, cioè gli esperti nazionali distaccati, ancorché non siano coperti da un inquadramento. Quindi questo è una cosa molto confortante, tuttavia quello che è quello che è l'aspetto negativo è che queste patrimoniali di cui vi ho parlato prima, cioè Livie e Livafe, a un certo punto l'amministrazione finanziaria nazionale, quindi l'Agenzia delle Entrate ha deciso di una mossa inaspettata, noi eravamo esenti, state esentate dal monitoraggio fiscale, quindi in teoria non avremmo mai dovuto presentare l'RW, però l'Agenzia delle Entrate ha scelto in forma amministrativa, perché non c'è una legge per questo, semplicemente il modello di dichiarazione dei redditi, il modello unico e le istruzioni che sono state predisposte, che sono degli atti dell'amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, quindi l'Agenzia delle Entrate ha deciso che la maniera per dichiarare, per liquidare e versare le imposte patrimoniali all'estero, Livie e Livafe, era compilando il quadro RW. Quindi in sostanza quello che è successo è che un obbligo dal quale eravamo stati esentati per provvedimento di legge è rientrato dalla finestra per un atto dell'amministrazione finanziaria. Quindi questo crea un grande cortocircuito e questa è la ragione per cui quello che ho detto prima, cioè il fatto che noi dovremmo essere esentati da qualsiasi sanzione per violazioni degli obblighi dichiarativi, che sono degli obblighi formali a supporto dell'obbligo sostanziale che è soltanto il versamento delle imposte, è una interpretazione incerta, perché è vero che noi siamo esentati dall'obbligo dichiarativo, però dobbiamo dichiarare per pagare l'imposta e quindi non si capisce se effettivamente uno, come può accadere, non ha effettivamente compilato correttamente perché si è scordato di un punto corrente che c'aveva e quindi non l'ha indicato per pagare i 34 euro di vafe sul conto corrente che c'ha, se questo è una violazione sanzionabile o meno. Io credo di no. È una cosa che secondo me ci sarà qualcuno al quale è già successo, che è stato contestato e lui ha eccepito, guardate io sono esente e l'amministrazione ha detto ok, però può darsi anche che qualcun altro diga no, non è ok e che insista, quindi per questo vi dico, non c'è, anzi sì. Ma non c'è stato un pronuncemento in un tribunale? No, no, che io sappia no, perché i nostri casi sono ancora molto, 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 molto e comunque possiamo anche continuare senza le slide. In sostanza a parte questo punto diciamo della sanzionabilità delle violazioni di carattere formali, quindi gli obblighi dichiarativi resta comunque piena, per cui quello che vi dico è sempre rilevante, la sanzionabilità degli omessi versamenti, cioè se qualcuno si è scordato di dichiarare un conto corrente all'estero e quindi conseguentemente non ha versato i 34 euro di quel conto e quindi questa è una violazione sostanziale che conviene sanare e in sostanza il messaggio è che, allora quello che vi sto dicendo adesso e qualsiasi comportamento voi prendete adesso avrà effetto quando arriveranno le comunicazioni circa i vostri conti correnti che sono stati dichiarati e non dichiarati nel quadro RW di questo anno, che sarebbe l'unico 2022 riferito alla situazione del 2021 e in sostanza questa situazione che si cristallizza adesso potrà valere, potrà essere contestata dall'amministrazione finanziaria da ora a sei anni e quindi in sostanza quello che bisogna fare è, questo è il messaggio, sanare quello che è possibile, tutto quello che volete sanare in sostanza, il che vuol dire fino a sei anni nell'anteriorità e cominciare ad adempiere in maniera corretta gli obblighi dichiarativi da adesso nel futuro. Prego, ci sono delle domande? Io mi scuso ma sono uno di quelli che ha ricevuto la lettera per il 2018 e noto che c'è una confusione massima sia a livello dell'agenzia delle entrate, nel mio caso quella di Ravenna, sia a livello dei commercialisti con cui ho parlato, fondamentalmente nessuno ci ha capito niente, l'agenzia dice no, ma dice tu devi riempire l'RV, cioè tu sei esente ma solo per gli obblighi di monitoraggio, ho capito, però lo devo riempire comunque come è stato detto per pagare queste cose e quindi mi dispiace ma se la parola esonero significa qualche cosa, per me la parola esonero significa che io non devo riempire l'RV, di conseguenza tutta questa discussione, cioè io adesso devo decidere se appunto regolarizzare in questa maniera o no e mi trovo di fronte a una situazione nella quale secondo me non c'è una certezza giuridica, io devo pagare le vie e le vaffe sì o no, perché se non riempio, certo se io non riempio e non devo riempire l'RV qui siamo in una situazione strana per me. Quello che rispondo soltanto a questa, perché diciamo quello che dice è perfettamente comprensibile, c'è questa confusione, però la chiarezza che intendo darvi è questa, una cosa sono gli obblighi sostanziali, gli obblighi sostanziali sono degli obblighi perfettamente validi, perché come ho spiegato l'IV non è un'imposta illegale e noi non siamo esonerati dal pagare le patrimoniali, quello di cui si discute è invece la sanzionabilità, solo la parte della sanzionabilità dell'omesso o incorretto obbligo dichiarativo, questo è, cioè in sostanza la risposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria nel suo caso dovrebbe essere sì, perfetto, io ammetto che non ho, quindi vorrei sanare per il passato quello che devo sanare per quanto riguarda i versamenti che non ho fatto, che poi si tratta insomma di somme abbastanza contenute, a meno che uno non sia super ricco, ma insomma non muore nessuno, però quello che bisogna insistere è che io non pago, intendo non pagare le sanzioni. Posso replicare, certo, però questo discorso quando gli dice l'obbligo dichiarativo è rientrato dalla finestra, ok? E qui è proprio il punto, voglio dire abbiamo da una parte un decreto legge, quello del 90 che è stato, poi è diventato legge eccetera, e dall'altra parte abbiamo un provvedimento dell'agenzia delle entrate, la legge non è sovraordinata? E allora? E qui il punto? La conseguenza di questo è il fatto che lei non deve pagare le sanzioni, perché l'imposta è un'imposta legittima e noi non siamo, il DL del 1990 non ci ha esonerato dal pagamento dell'imposto, siete esonerati dagli obblighi di monitoraggio che si concretizzano nella dichiarazione. Per favore posso venire in giunta? Allora signori, molto piacere, io mi sono l'avvocato Fratini, vivo principalmente in Italia, in studio abbiamo circa 580 contenziosi in tutto il paese contro l'agenzia delle entrate. È collegato con me un mio collega, si chiama Nicola Merelli, Nicola se ci sei puoi dire se esisti? Non esiste. Lui è un commercialista invece e sostanzialmente segue gli addempimenti più concreti. Io sono un contenziosista, quindi stavo anche un po' leggendo, riprendendo un po' di informazioni che tanto tempo fa avevo in mano invece i colleghi del team dei commercialisti perché seguono molti vostri colleghi, rispondiamo a tanti anni le vostre dichiarazioni di redditi. Vi sono sentito un po' toccato adesso col suo intervento, anche con la sua verve signore, perché lei è toccato nel vivo di una questione e con fare un po' arrabbiato ci ha detto ma allora non è chiara questa cosa. Allora io che vivo di contenziosi tributario e che lo faccio davvero, ma su cose serie, molto penale, molto penale tributario, molte frodi, vengo in soccorso del collega con il quale ci siamo sentiti, per cui lei rappresenta la parte di pensiero accademico e ho il braccio operativo di questa discussione. E quando abbiamo detto, ma a che taglio diamo queste slide che abbiamo cercato di predisporre, è evidente che si è tentato di dare ai signori un'interpretazione alla materia, perché la legge non è esattamente coordinata come ci stiamo rappresentando. Io mentre parlavamo stavo leggendo le norme di legge, come se dovessi fare un ricorso, un cliente dice avvocato. Merelli può parlare, dovrebbe avere l'audito. Nicola ci sei? Sentite? Sentite? Sì. Poco, ma puoi alzare la voce Nicola? Sì, mi sentite meglio. Ok, tu ci senti invece, vero? Benissimo, io mi sento benissimo. Fantastico, ok. Nicola Merelli, che adesso noi vediamo, forse altri non vedono, è collega, voi vedete perfetto, è collega che si occupa delle dichiarazioni dei funzionari, diciamo a Bruxelles. Allora, ritorno un attimo al punto, dottore. Lei sta sottoconendo un caso, se capisco bene, la rientra esattamente in questa fattispecie. Avevo messo la dichiarazione, i vafe, o dei vie, è stato raggiunto da uno scambio di informazioni, l'agenzia entrata l'ha chiamata dicendo, ma scusami, l'autorità belga mi ha comunicato questa giacenza, non la trovo nel tuo unico, o me la giustifichi oppure mi paghi le sanzioni. Questa, diciamo, la fattispecie. Ora, io vorrei un po' ricomporre il quadro, per dire che lei è davanti all'agenzia delle entrate e è davanti ad un contraddittorio abbastanza importante da fare con l'agenzia delle entrate, perché l'agenzia delle entrate cosa dice? Allora, teniamo conto che nel quadro Rw dell'unico, come lei appunto diceva, come il collega diceva, vengono sostanzialmente in questo quadro, ok? Vengono indicate i dati del monitoraggio fiscale e a fianco un quadro per l'IVA, FE e le vie, ma lei dice, scusate signori, se la norma del 2010 mi esonerava dal compilare il quadro dell'Rw, io perché avrei dovuto compilare il quadro dell'Rw? Sto capendo correttamente, dottore? E da questo punto di vista il collega Pierpaolo Rossi dice, ma assolutamente perché la norma di senorativa legittimamente l'ha sottratta dal predisporre il quadro dell'Rw, siccome la sostanza dei fatti che lei comunque quella IVAFE o IVAFE non l'ha pagata, lei comunque deve pagarla e deve pagarci le sanzioni per il pagamento, ma non degli obbidi dichiarativi, che sono due aspetti che sta dicendo il collega, non è che sono venuto in tuo aiuto, ma sto solamente dicendo al signore che un qualche guaio lei ce l'ha, mi scusi il termine, adesso devo un po' di affrontarlo, ok? Perché lei un qualche guaio ce l'ha, adesso glielo spiego in tre secondi, perché in realtà io che discuto, no, in italiano dovrei dire una parola molto più efficace, però non la dico, siamo con sesso istituzionale, ok? Mi infervo, diciamo, con i giudici e con l'agenzia delle entrate, loro che cosa ti vanno rispondere, se non li hanno già detto non glielo dica perché questa è la soluzione del caso negativo, devo guarda caro contribuente, lei come si chiama di cognome? Dal Monte, caro Dal Monte, il decreto legge 78 del 2010, il cui articolo 13, mentre parlava il professore per Paolo Rossi io mi stavo documentando sulle cose, dice gli obblighi dichiarativi, ascolti bene, previsti dall'articolo 4 del DL 167 del 90, cioè il monitoraggio, cioè tutta quella roba per cui ci ha parlato Pier Paolo adesso, che viene dal passato, il monitoraggio, i capitali, la circolazione, non si applicano, lettera A, alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero, per lo Stato italiano, per una suddivisione politica e amministrativa e via dicendo, all'estero, per l'organizzazione internazionale, così dice l'Italia, la cosiddetta fiscale in Italia sia determinata, ed è qui il suo collega in fondo, su adesso con la maglietta che diceva chi questi, ecco siamo noi, come diceva Vasco Rossi, sia determinata in dergo agli ordinali criteri previsti dal testo unico di impostazione in base ad accordi internazionali ratificati, tale sonoro si applica limitatamente ai periodi in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. Quindi se lei si riconosce qua dentro, siate nel protocollo e quindi siete esonerati perché lei è in servizio, perché l'ultimo paese quando ha preso servizio della Commissione era l'Italia, quindi mantiene l'effetto memonico della residenza fiscale in Italia, se lei è tutto in questo contesto, lei o le persone che sono qui presenti, quelle che ci ascoltano, è evidente che questa norma l'Agenzia dell'Entrata la possa interpretare dicendo che quel sonoro è limitato agli obblighi dichiarativi previsti dal decreto 167, che è una cosa diversa da dire gli obblighi dichiarativi contenuti nel quadro RW, cioè potrebbero arrivare, io le sto dicendo quello che aspetta lei, alla tesi per cui la scelta del modello dichiarativo che è un DM del Ministro delle Finanze è una scelta di uno strumento strumentale, mi portiamo la cacofonia di dove mettere il rigo, l'avrebbero potuto mettere anche da qualche altra parte, ma la base legale dell'esonero non richiama gli obblighi dichiarativi dell'IVAFE e dell'IVAFE, ma in realtà riguardano solo gli obblighi del monitoraggio, quindi loro potrebbero arrivare a dire, racconto le due tesi così le affrontiamo, che questa esclusione riguarda solo la base legale del decreto 167, mi segue? Ok? Invece vedevo le altre norme, cioè quelle che hanno introdotto questi maletti tributi, il regime sanzionatorio correlato, che invece hanno degli obblighi specifici a pomini, che sono quelle che ci danno più fastidio signori, perché le sanzioni per l'omesso avversamento sono dal 90 al 180%, sono quelle che ci danno fastidio, non ci dà fastidio la sanzione, l'imposta come dicevamo, ci dà fastidio la duplicazione dell'imposta per gli obblighi dichiarativi e su questo punto potrebbero arrivare a dirci che questa clausola di sonero ha una portata più ristretta. Cosa ci dice Pierpaolo quando abbiamo preparato questo intervento? che questa interpretazione non è proporzionata per due ordini motivi, non è proporzionata in termini verticali perché altrimenti non si capirebbe il senso di questa norma che esonera sostanzialmente i funzionari europei dal predisporre questa dichiarazione e non è proporzionata neppure neanche rispetto all'entità dell'imposta evasa, perché si vanno ad aggiungere delle sanzioni e degli interessi che sono abnormi e su questo Pierpaolo mi ricordo mi ha parlato di alcune sentenze, l'ha messo anche in evidenza alcune sentenze nell'ambito della giurisprudenza della Corte di Giustizia, Spagna, Francia, qual dato che troverete a loro interno. Quindi la risposta è, la questione è chiara, sanata da una norma specifica, da una circolare? No. La questione riguarda molti di voi, io non vivo a Bruxelles, però Pierpaolo mi ha detto che c'è in realtà un orientamento. L'agenzia delle entrate funziona per delle articolazioni autonome, potrebbe esserci che l'agenzia delle entrate di Pesaro si comporta in un modo, che l'agenzia delle entrate di Ferrara si comporti in un altro in alto, che qualcuno vada incontenzioso, se qualcuno vinca, qualcuno perda, questa è la storia di quello che accade in Italia. Il suggerimento che do, davanti a una questione, ripeto, dove la legge non ha disciplinato esattamente la fattispecie, perché non poteva disciplinare la legge del 2010, e queste norme sono intervenute dopo, le cede del modello RW è intervenute dopo, capite che c'è un affastellamento di cose che si evolvono, è quello laddove vi siano dei casi ripetuti e costanti da parte di voi di prendere un orientamento che è comune, cioè le difese davanti all'agenzia delle entrate devono essere di uguale tenore, tecnico, perché se qualcuno risponde alfa e qualcuno risponde beta, e qualcuno definisce, qualcuno paga e qualcuno va incontenzioso, il rischio è che si crei un'articolazione di interpretazioni in svantaggio del contribuente. Quindi il mio suggerimento da contenziosista puro è siccome siamo all'inizio di questo fenomeno, perché mi dicono che ci sono dei casi, di avere un comportamento coerente e comune, con un'interpretazione che è quella che sta suggerendo il collega Pierpaolo Rossi, cioè un'interpretazione che avvantaggia l'aspetto sostanzialistico. Semplicemente troverete una slide dove ci sono i riferimenti di queste sentenze, sono dei casi interessanti che riguardano le sanzioni per inosservanza degli obblighi di monitoraggio. Io credo che non abbiamo moltissimo tempo, corretto? E quindi magari se era possibile, soltanto per completare questa cosa, questa riunione di oggi, perché quello che manca e quello che è un messaggio invece molto molto importante è come rimediare agli errori. E quindi lì il tuo collega forse ci può dare... Sì, prego. Sì, mi sentite? Aspetta, aspetta Nick che c'è una stante che fa una domanda. Aspetta Nick. Ecco, nel quadro c'è anche lo spazio per l'Ivie e non solo per l'Ivafe. Ma l'Ivie, se ho capito bene, a partire con la legge di stabilità del 2016, c'è stata sempre per il parallelismo con l'Imu, praticamente come prima casa non si può evitare di dichiararla, perché la cosa importante è che parte gli investimenti, eccetera, ma la cosa sostanziale è a casa, perché se arriva una multa sul volo della casa siamo finiti, è giusto perché io da un certo punto, a partire dal 2016, non ho più riempito, io riempio gli altri spazi per l'Ivafe, ma per l'Ivie dal 2016 con la legge di stabilità è stato stabilito che si poteva evitare di riempirlo e quindi non l'ho più riempito, è corretto? Assolutamente, assolutamente corretto e questo anche combacia perfettamente con l'esenzione, l'altra esenzione, quella del DL del 1990 sull'obbligo di monitoraggio, perché ci sarebbe, uno potrebbe dire, ma deve comunque dichiarare la casa perché è un patrimonio da cui potrebbe derivare un reddito futuro, perché lui potrebbe decidere di locare la casa o cose del genere, e però come abbiamo detto gli obblighi dichiarativi a puri fini di monitoraggio non si applicano ai funzionari e a quelli che vivono all'estero che sono in questa categoria della deroga. Per quanto riguarda invece l'abitazione principale, questo forse è un piccolo elemento, allora ci sono due concetti, uno è il concetto dell'abitazione principale a cui fa riferimento l'IVIE e l'IMU, l'imposta parallela in Italia, l'altro è il concetto della prima casa, a cui ho fatto riferimento. La prima casa è un regime differente e riguarda certe riduzioni dell'imposta di registro e dell'IVA quando si acquista un immobile in Italia. Quindi il concetto di prima casa si riferisce alla prima casa, al primo immobile che un contribuente acquista. Questo primo immobile poi può diventare, cioè questo beneficio che riguarda il primo acquisto di un immobile può essere poi mutato a un altro immobile. Se io vendo il primo immobile e lo porto e acquisto un altro immobile posso trasportare il mio regime prima casa. Quindi, ma questo riguarda l'attastazione, l'imposizione indiretta essenzialmente. Altra cosa è l'abitazione principale. L'abitazione principale è unica sola ed è il posto dove si vive, dove c'è il centro della propria vita personale e dove c'è la residenza anche. Per questo è importante iscriversi all'AIRE perché l'iscrizione all'AIRE e appunto nel luogo dove si possiede l'abitazione principale permette di beneficiare del regime di abitazione principale. Anche su questo ci sono un sacco di confusioni perché colpevolmente anche forse da parte nostra c'è la gente che continua a considerare l'abitazione principale la sua casa di origine che c'è in Italia e quindi dichiara ai fini IMU che quella è la sua abitazione principale e poi quando deve fare la dichiarazione e quando deve versare livie per l'abitazione dove invece sta all'estero si trova spiazzato perché non può avere due luoghi di residenza, due luoghi dove vive abitualmente. Quindi questa è una confusione che esiste, però c'è questa differenza tra le due nozioni, abitazione principale e prima casa. C'è un'altra domanda? Due informazioni di servizio per i colleghi. Primo, naturalmente possiamo continuare anche dopo le due e mezzo se i nostri ospiti sono disponibili. Secondo, ci sono decine di domande nella chat che naturalmente non possiamo gestire adesso ma che assolutamente non vogliamo dimenticare. e quindi saranno trasmesse ai nostri oratori con la preghiera di poterci fornire gli elementi di risposta che noi potremmo poi mettere a disposizione delle persone naturalmente rendendo anonime le domande perché ci sono delle domande sono 15 anni che non faccio la dichiarazione non pubblichiamoci veramente il nome del collega. No, però tranquillizziamo questi poveri contribuenti. Diciamo è uno dei peccati meno gravi. Va bene? Ok. Ringraziamo per la soluzione. Possiamo... Io solo... Sì, sì, per evitare che ci sia un vantaggio competitivo dei presenti rispetto ai poverini che sono distaccati. Comunque, se è veloce... No, solo un chiarimento sull'abitazione principale. Quando vi dice abitazione principale intende solamente nel caso in cui si è acquistato casa all'estero non quando si è in affitto. Sì, certo. Quando si è in affitto non... Però il problema non è peregrino, nel senso che come ha affittato la casa, cioè per viverci la sua abitazione principale non potrebbe essere quella italiana perché non c'è la residenza quindi in sostanza perderebbe l'abitazione principale. Questa è la cosa un po' sconveniente. E c'è sempre la cosa dei cinque anni o no? L'acquisto della prima casa in Italia per cinque anni bisogna stare lì, risiedere in Italia abitarci e poi dopo invece... No, questo è il regime della prima casa. No, la prima casa è un regime per l'acquisto cioè è sull'imposizione indiretta, sull'acquisto l'abitazione principale invece è sull'imposizione diretta e sulle patrimoniali quindi il requisito della permanenza per cinque anni è quello della prima casa quindi in sostanza per avere la liquida IVA agevolata l'imposta di registro agevolata per l'acquisto della prima casa bisogna impegnarsi a stare cinque anni. E dopo cinque anni si può andare a vivere all'estero per dire? Dopo cinque anni sono libero di sposarsi senza all'estero per dire? Sì, nel senso che per la prima casa non è necessario cioè basta istantaneamente mettersi anche un giorno la propria residenza il proprio domicilio nel posto della prima casa e poi andarsene all'estero e iscriversi all'aereo se uno vuole quella rimane comunque la prima casa in Italia invece l'abitazione principale bisogna starci sempre questo è il... nell'anno almeno... attesto che i nostri peccati sono beniali e quindi perdonabili diamo la parola al guardiano del purgatorio che ci spiega quale sono le penne cui dobbiamo sottoporci per farci perdonare allora do io un'introduzione e poi lascio la parola a Nicola allora nella premessa che penso è stato abbastanza esplicito nel dirvi che questa tematica del monitoraggio è una tematica da affrontare in maniera all'unisona intelligente con impostazione legale una base legale convincente ok? per poi la cosa peggiore è cominciare degli orientamenti a destra e a sinistra che si consolidano che diventano poi la riete per diciamo quando la legge non è specificatamente puntualmente prevista siamo stati chiamati a diciamo a descrivere quelli che sono gli strumenti di definizione postuma delle composizioni degli errori o delle emissioni con l'amministrazione finanziaria gli strumenti sono due sostanzialmente che consentono di sanare comportamenti omessi ritardati o non corretti in passato il primo si chiama l'istituto del ravvedimento operoso e il secondo l'istituto della dichiarazione integrativa ho preso la parola lasciando al collega Merelli poi diciamo la conclusione perché a differenza di commercialisti italiani noi ci occupiamo da tanti anni di funzionari europei che hanno tematiche fiscali specifiche quindi in realtà il collega Merelli ha una competenza specifica su queste tematiche che ci avete sollevato che all'inizio erano tematiche pioniristiche perché la normativa italiana non era compatibile con o comunque non aveva individuato una sensibilità nei confronti di questi casi specifici e quindi abbiamo risolto piano piano negli anni questi orientamenti trovando poi ecco perché dicevo il comportamento unisono i riscontri effettivi con l'agenzia delle entrate che poi piano piano ha cominciato a annullare ha cominciato a seguire ha cominciato ad avere un orientamento coerente ravvedimento peroso è un istituto introdotto nel nostro ordinamento nel 1997 la parola è iconoclastra dell'istituto ravvedo operosamente cioè significa che conosco di aver commesso un errore mi attivo mi autodenuncio pago le imposte che dovrei dovuto pagare e aggiungo a queste imposte una sanzione che però deve essere una sanzione ridotta perché deve avere l'interesse a ravvedermi la sanzione è più ridotta quanto il comportamento correttivo è più prossimo all'omissione la sanzione ridotta è più importante quando il comportamento correttivo è più distante dall'omissione il periodo in cui effettuare il ravvedimento è il tax period e quindi il periodo per effettuare l'accertamento superato il periodo di cadenzia dell'accertamento signori si dice in napoletano chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato scordiamoci ho passato quindi il fisco se contesta un comportamento fuori da tax period è decaduto dal potere di poterlo effettuare questo ravvedimento peroso signori nella sua genesi originaria nasceva con una condizione impeditiva cioè se l'agenzia delle entrate aveva adottato un atto di accesso ispezione o verificazione nei confronti del contribuente il contribuente non poteva più accedere all'istituto del ravvedimento peroso questa norma è stata superata da tre anni e quindi oggi è possibile ravvedersi anche dopo che l'agenzia delle entrate ci ha notificato un atto ha fatto un accesso o un'ispezione o una verificazione ma attenzione o un invito alla compliance ma attenzione l'effetto preclusivo è stato spostato nel momento in cui ci viene notificato un atto di accertamento un atto di liquidazione questo significa che ai primi albori di un atto di compliance come dice Pierpaolo c'è un 36 bis occorre muoversi farsi assistere o decidere se abbiamo torto ragione se abbiamo torto possiamo porre in essere un ravvedimento peroso ok? poi Nicola scenderà nel dettaglio diciamo delle percentuali e delle applicazioni l'altro istituto che è connesso al ravvedimento peroso è la dichiarazione integrativa signori ora la dichiarazione integrativa tenete conto che integra una dichiarazione se avete omesso la presentazione della dichiarazione non c'è niente da integrare possiamo solo adempiere e correggere un vulnus di dichiarazione omessa nei 90 giorni dal termine il termine del 30 di novembre presentazione dell'unico 30 dicembre 30 gennaio 28 febbraio presento la dichiarazione integrativa nei termini l'omessa quando invece ho presentato una dichiarazione e questa dichiarazione è errata è errata perché non ho compiegato correttamente l'RW è errata perché non ho compiegato l'RP è errata perché ho sbagliato l'RF quindi i vari righi di una dichiarazione di persone fisiche posso effettuare un'integrativa l'integrativa è dei due fatti specie nella dichiarativa si dice in favore del contribuente e in favore del fisco la dichiarazione in favore del fisco è una dichiarazione in cui il mio debito di imposta o il mio credito di compensato è un debito maggiore o il credito è minore quindi devo saldare un'imposta al fisco in questo caso se la dichiarazione integrativa è in favore del fisco ci sono delle sanzioni da pagare e quindi ecco perché si collega l'integrativa con il ravvedimento perché io devo prima andare a rimuovere l'errore che ho commesso nella dichiarazione e poi farò un pagamento ravveduto nei termini che adesso il collega Mearelli ci illustrerà il termine per la dichiarazione in favore del fisco dopo una serie di modifiche normative è un termine che copre tutto il tax period 5 diceva il collega Rossi oggi è il 2022 noi il periodo di imposta il primo che scade al 31 dicembre del 2022 è il 2016 al 31 12 del 2022 scaderà il 2016 l'anno successivo il 17 l'anno successivo il 18 quindi il periodo integrabile fino al 2016 se lei le hanno chiesto il 2018 molto ovviamente perché lo scambio di informazioni è operativo come diceva il collega dal 2018 ok e quindi non hanno informazioni precedenti la dichiarazione integrativa invece in favore del contribuente una volta era limitata nell'ambito oggi è possibile effettuarla nei stessi 5 anni quando io ho versato più imposte mi sono sbagliato attenzione però che il fisco come dice non è fesso e quindi si riaprono i termini per la rettifica delle dichiarazioni per cui se io oggi nel 2022 integro una mia dichiarazione nel 2016 e quindi ottengo un credito d'imposta che vado a compensare quella dichiarazione potrà essere accertata non nei 5 anni a partire dal 2016 ma nei 5 anni a partire dal 2022 quindi si riaprono diciamo dei termini quindi il messaggio che vogliamo dare con questa conferenza al di là della nostra amicizia e colleganza è un'idea di come dire un'idea integrata in cui c'è scienza sapere e c'è anche operatività nel mettere le mani sulle cose sono due cose non si possono mettere le mani sulle cose se non c'è sapere e non si può solo sapere se non c'è operatività quindi è un po' un'idea di ragionamento per cui sostanzialmente questi istituti possono essere applicati anche nei vostri confronti senza arrivare a uno scontro con il fisco di cui appunto facevamo riferimento lascio questo prologo la parola Nicola come si fa il ravvedimento quale sono le aliquote e come si fa la dichiarazione integrativa Sì Nicola scusami se mi permetto perché dopo aver garantito che risponderemo a tutte le domande ce ne sono alcune che sono talmente ricorrenti che sarebbe utile che tu le chiarissi direttamente per esempio ce ne sono molti che dicono non ho mai dichiarato il mio conto corrente in cui ricevo il mio stipendio qual è il massimo della sanzione in cui può essere esposto posso essere esposto secondo qual è il valore della mia abitazione in Belgio sulla quale l'imposta sarà eventualmente calcolata Sì grazie allora per quanto riguarda la mancata dichiarazione del conto corrente la sanzione in questo caso se è stata presentata a Monte una dichiarazione allora sarà la fattispecie quella della dichiarazione infedele quindi la sanzione ammonta una percentuale del 120% dell'imposta non pagata quindi parliamo sempre comunque sia di 34,20 un importo contenuto salvo che il conto corrente avesse avuto una giustizia media inferiore ai 5.000 euro in quel caso praticamente vi era lesonero dalla compilità pagare l'iva-fè e chiaramente anche dall'RW ecco qui volevo fare una puntualizzazione perché ho visto ad essere stato molto interesse la questione relativa alla sovrapposizione alla normativa di diritto valutario di L167 del 90 e il decreto salva Italia che invece ha introdotto obblighi tributari per l'imposizione patrimoniale sulle immobili attività finanziarie ora quando il legislatore nel 2009 ha introdotto l'esonero del monitoraggio sulle attività patrimoniali finanziarie dei funzionari europei ha introdotto praticamente un esonero che riguarda soltanto la segnalazione di diritto valutario questo che significa che la sanzione del 3% che va dal 3 al 15% 6 o 30% se sono in paradisi fiscali non trova applicazione nel caso del funzionario comunitario ok così come non trova neanche applicazione la presunzione secondo cui il l'ammontare dell'attività patrimoniale finanziaria non dichiarata praticamente si presuma conseguita a cura di percepiti in evasione d'imposta quindi altro conto invece sono le imposte patrimoniali di vafe e li vie è vero l'elemento di dubbio è stato innescato dal fatto che il legislatore quando ha introdotto queste due imposte le ha allocate nel quadro rw che storicamente era il quadro del monitoraggio valutario quindi che succede nel caso specifico se un funzionario non compila l'rw per praticamente adempiere l'obbligo sostanziale di versare le imposte patrimoniali sarà sanzionabile soltanto per la violazione tributaria ma non per quella valutaria ok quindi non si applicano le sanzioni diritto valutario del dl 167 perché c'è un esordio che è il funzionario mentre si applicano le norme sul mancato versamento e dichiarazione ai fini degli obblighi tributari il vafe e i vie quindi che significa non ho dichiarato il conto corrente benissimo ad una giocenza di supponiamo almeno 5.000 euro devo pagare 34.20 io la mia sanzione che riceverò sarà praticamente del 120% se ammonte la dichiarazione infedene sarà scusi del 90% del 120% se l'ho omessa ma non si farà luogo all'applicazione della normativa diritto valutario che prevede la sanzione dal 3 al 15% perché il funzionario è espressamente esonerato quindi dobbiamo distinguere il funzionario sotto il profilo tributario è un contribuente il decreto salva Italia il governo Monti quando introdusse queste imposte patrimoniali ha visto il funzionario comunitario come un contribuente ma non come un soggetto che possa essere passibile di sanzione diritto valutario perché per sua stessa natura il funzionario comunitario non è incline a porre in essere fatti specie criminose che si riconnettono al riciclaggio finanziario questo è il motivo quindi l'unico elemento di equivo nasce dal fatto che l'isolatore ha allocato l'IVAFEI nel quadro che è un quadro deputato ai riempimenti di diritto valutario quindi Nicola posso dirti una cosa solo per rendere arricchire la discussione sottoscrivo completamente vedete c'è anche un abuso nell'utilizzo dello strumento dichiarativo cioè è incongruente utilizzare l'RW per dichiarare l'IVAE e l'IVAFEI giustamente dice collega l'RW serve per il monitoraggio fiscale o il monitoraggio di natura valutaria quindi c'è un uso distorto e qui naturalmente nasce l'equivoco tuttavia signori ripeto a mio avviso vi è proprio perché c'è un equivoco nell'utilizzo dell'RW c'è la possibilità che l'agenzia dell'entrata si inserisca all'interno di questa discussione come lei ci sta segnalando perché il ragione di cui fa l'agenzia dell'entrata dice sì è vero che utilizzi l'RW però devi scendere l'obbligo dichiarativo anche se utilizzi l'RW e io ripeto percepisco che c'è un fondito su questo ragionamento ecco per cui bisogna rilavorare sui motivi dell'esonero e fare in modo che la scelta che ha utilizzato il fisco italiano unilateralmente di utilizzare un modello RW in termini ultronio non può ricadere a danni del funzionario però questo è un passaggio logico successivo che vanno accompagnati ok perché lo spazio dell'equivoco e lo spazio poi di manovra se si rendono conto che il fenomeno non riguarda una persona ma che riguardano più persone signori c'è prego a te la parola Nicola sì questo è l'aspetto poi c'è un altro quesito il funzionario comunitario che praticamente ha un immobile immagino tenuto a disposizione o locato a Bruxelles in Belgio allora si diceva qual è la base imponibile se ho capito bene delle vie benissimo poi è intervenuta la circolare 28 del 2012 dell'agenzia delle entrate che ha chiarito che per gli immobili che sono ubicati in Unione Europea o comunque nel perimetro più ampio dello spazio economico europeo che include anche Islanda e Norvegia in alternativa al costo di acquisto o il valore di mercato può essere assunto il valore catastale ok ora nella fattispecie specifica nel in Belgio non esiste un'accezione di valore catastale ma esiste l'accezione di reddito medio ordinario che si è espresso dalla Riveno Cadastral Index Allora in questo senso l'agenzia dice benissimo per assolvere l'Ive sulla casa chiaramente che non sia abitazione principale perché una vada se è esente non sconta nulla e neanche va per rispondere all'altro quesito neanche va indicata nell'RW quindi dichiarazione semplicemente stiamo parlando delle case tenute a disposizione affittate che pagano l'Ive al 7,6 per mille su cosa la Riveno Cadastral Index moltiplicata per 160 che altro non è che il moltiplicatore Imo che praticamente viene adottato in Italia per assolvere l'imposto omologa dell'Ive che è appunto l'Imo e così si ottiene un valore la cosiddetta base imponibile che è un'approssimazione di un valore cadastrale a quel punto applichiamo su questo importo il 7,7 l'agevolazione che ha accordato l'agenzia delle entrate è che in buona sostanza è possibile per il contribuante scegliere la base di calcolo in funzione della sua convenienza se praticamente applicando la Riveno Cadastral Index se il moltiplicatore 160 si ottiene una base imponibile più bassa del costo di acquisto allora può adottare questo criterio alternativo qui c'è ampia libertà ora questo è stato introdotto perché inizialmente era previsto soltanto la base imponibile per il costo di acquisto ma voi capite bene che la dinamica inflazionistica su un'abitazione che è stata acquistata 30 anni fa o 40 anni fa rispetto a una casa che è stata acquistata adesso avrebbe determinato una sperequazione tra funzionario e funzionario ok perché se io ho acquistato una casa 50 anni fa è chiaro che il costo di acquisto era sensibilmente più basso sarebbe conseguito un carico ingiustificatamente più basso di chi diversamente l'ha acquistata da poco e quindi l'agenzia per pericuare ha dato la possibilità al contribuente in caso specifico in Belgio così come negli altri stati europei dove envisiono il reddito medio-ordinario costare venuto adastrare l'index E che sarebbe l'omologo nostro della rendita catastale che è un reddito medio-ordinario di poter praticamente fare due simulazioni una simulazione di tassazione sul costo di acquisto 7,6 per mille sul costo di acquisto oppure il 7,6 sulla revenu catastale index E moltiplicata per 160 l'importo che è più basso può essere adottato legittimamente dal contribuente dal funzionario comunitario per assolvere l'imposta ok questa è l'assetto attuale ci sono poi altri stati ok Nicola ok teniamo conto anche dei tempi potresti cortesemente parlarci delle aliquote connesse al ravvedimento operoso Nic sì allora su per quanto riguarda il ravvedimento operoso il dato di partenza è la fattispecie che risulta commessa cioè abbiamo fatto una dichiarazione infedele perfetto la sanzione è il 90% dal 90% al 180% se noi ci ravvediamo praticamente e quindi in modo operoso andiamo a presentare la dichiarazione e contestualmente andiamo a versare il maggior temuto dovuto il ravvedimento fa sì che quella sanzione del 90% venga ridotta a seconda dei casi a un decimo se lo faccio in 90 giorni a un nono se lo faccio entro l'anno e così via fino praticamente a sei anni ok siamo nell'ambito perché l'avvedimento opera nell'ambito del periodo normale di accertamento quindi quanto più io mi attivo tempestivamente per ravvedermi prima che chiaramente sia intervenuto la notifica di un altro accertamento maggiore sarà il beneficio che l'esilatore mi accorda per sanare questa situazione se tuttavia invece io ho omesso la dichiarazione è chiaro che io questa la posso sanare con praticamente una dichiarazione tardiva di 90 giorni versando 25 euro cioè la sanzione dittale è 258 euro diviso 10 un decimo ci dà 25 quindi facciamo il caso specifico noi in questo momento siamo ancora in tempo per adempiere per chi non l'avesse fatto l'obbligo dichiarativo dell'anno di imposta 2021 poniamo il caso che essendo la scadenza del 30 novembre questa venga saltata come diceva poco fa l'avvocato Fatini io posso sanare in questa situazione versando 25 euro di imposta di avvenimento entro il 28 febbraio 2023 se salto questa scadenza e la dichiarazione viene tecnicamente omessa io resto esposto ad una sanzione che va dal 120 al 240 per cento che tuttavia può essere dimezzata del 50 per cento se presento la dichiarazione emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo nel caso nostro entro praticamente il 30 novembre 2023 questo è il panorama è chiaro che in questi casi quello che stiamo avvisando è che l'agenzia per effetto del controllo incrociato sta mandando dei abisi di compliance a coloro i quali hanno già presentato la dichiarazione in quel caso molti gli viene proposto che cosa viene proposto di sanare tutto con il versamento di una sanzione al 15 per cento perché praticamente siamo nella fascia del quarto anno ora è chiaro che quando dovesse arrivare questa compliance abbiamo del tempo per sanare ma non è lunghissimo significa che abbiamo dai 3 ai 4 mesi poi si entra in un ambito di rischio nel quale non posso più sanare il ravvedimento perché viene notificato un avviso di accertamento quindi io vorrei richiamare l'attenzione su questo specifico aspetto non appena il funzionario riceve questo avviso di compliance che è il caso più comune in questi giorni in questi mesi in questi anni di attivarsi immediatamente con il proprio commercialista per sanare la situazione ora qual è il caso più il caso più frequente che il funzionario molto spesso nell'80% dei casi dispone dell'abitazione principale della seconda casa che molto spesso ha dato anche in affetto e allora in quel caso occorreva anche dichiarare il provento che nel caso del Belgio è assimilato alla regola cadastrale indexe perché in base all'articolo 70 del testo unico secondo comma si assume il luogo del cano di locazione l'elemento reddituale che è preso a riferimento dall'autorità fiscale estera ai fini dell'imposizione siccome qualche percom è un'imposta sul reddito che include anche l'eventuale locazione in caso di affitto si può sanare la fattispecie semplicemente dichiarando la rivenuca da stare indexe nel quadro rl dei cosiddetti redditi diversi l'altra fattispecie è quello di interessi di conto corrente è vero ormai data l'andamento dei tassi è fatti specie molto rara ma non la possiamo escludere specie sui portafogli che abbiano un significativo a montare sui quali ad esempio su titoli obbligazionari ancora di vecchia sottoscrizione ci sono degli interessi cospicui che vanno dichiarati e sui quali occorre assolvere l'imposta sostitutiva dell'IPREF al 26% così come la stessa imposta va assolta sui cosiddetto capital gain cioè ho dei fondi come un investimento non li ho praticamente li ho venduti ho conseguito una prosvalenza su quel differenziale tra il prezzo di vendita e il costo di sottoscrizione e acquisto devo pagare il 26% questi sono dei fatti specie per dire Nicola scusami che ti interrompo per sempre per tenere questo diciamo nei tempi stabiliti allora il messaggio è il seguente nei momenti in cui arrivano delle comunicazioni abbiamo chiamato di compliance questo è l'ultimo scalino per accedere a delle rabbidimenti operosi ok per chi non ha diciamo un po' senessere dei comportamenti gli strumenti coprano una vasta gamma di fatti specie occorre avere una certa maneggevolezza tecnica nel conoscere la base legale per trovare un accordo adeguato nel ravvedimento è indispensabile quindi allertarsi e tenere conto poi del limite massimo entro il quale il fisco potrà emettere gli atti di accertamento perché gli atti di accertamento sono l'elemento il dies ad quem a partire dal quale è preclusa ogni forma di composizione la scadenza del periodo fiscale generalmente coincide con il termine in cui si notificano gli avvisi di accertamento ora il 2018 non è scadenza quindi è verosimile che l'agenzia delle entrate non dovrebbe notificare un avviso di accertamento ok che prendono il tempo però monitorate sempre perché poi ci sono anche dei carichi di lavoro e dei report che i funzionari dell'agenzia di entrate devono garantire in termini di esecuzione delle pratiche quindi accertatevi sempre qual è il tempo a vostra disposizione nel momento in cui naturalmente fate una verifica in ordine alla ragionevolezza della pretesa del fisco se invece siamo di fronte ad una richiesta totalmente abnorme allora a questo punto la scelta è il contenzioso tributario che esiste naturalmente l'alea del contenzioso esiste però consente anche naturalmente di far valere i propri diritti in termini diciamo puntuali questa è la ricostruzione analitica diciamo della fattispecie se posso banalizzare il dibattito che è molto tecnico alla luce delle domande che sono poste la situazione più ricorrente sembra essere come è assolutamente normale che sia il collega che ha una casa in Belgio come abitazione principale e il conto corrente su cui riceve il suo stipendio lasciamo perdere quelli che hanno investimenti diversi quindi riassumendo se è iscritto all'aere perché questa è un'altra delle domande che sono ricorrenti se è iscritto all'aere se ha una casa in Belgio che è la sua abitazione principale questa non deve essere dichiarata i conti correnti il conto corrente o i conti correnti sono i famosi 34 euro di cui stiamo discutendo una sottodomanda se al conto corrente è collegato quello che si chiama il livre vero il libretto di risparmio o qualsiasi cosa si debbono dichiarare tutti e due o uno è collegato all'altro no vanno dichiarati entrambi allora molto spesso c'è un altro equivoco perché la legge istitutiva in Salvatavia ha stabilito che praticamente i libretti di risparmio se hanno una giocenza che non supera nell'anno i 5.000 euro sono essenti o comunque sia pagano il 34 euro e 20 se hanno una giocenza superiore ora il libretto di risparmio a cui allude l'isolatore italiano altro non è che quello che è menzionato nell'articolo 1835 del quadro civile ossia il libretto di risparmio cartaceo nel quale lo sportellista nota sistematicamente le rimesse e i prelevamenti ora il libretto di risparmio cartaceo tuttavia non è è incompleto dissuso il libretto di risparmio di cui si parla molto spesso che vediamo nelle certificazioni che ci producono i funzionari è ormai un prodotto dematerializzato e come avviene in Italia i libretti di risparmio non esistono più sono tutti dematerializzati e vengono chiamati conti di deposito che scontano il 2 per 1000 di bollo mentre chiaramente se sono all'estero scontano l'IVAFE al 2 per 1000 del valore nominale molto spesso c'è questo equivoco poiché molti funzionari vengono tirati in errore tratti in errore dal fatto che venga chiamato un libretto e a quel punto non è un libretto è un conto deposito che sconta l'IVAFE al 2 per 1000 e non a 34 e 20 ok? io volevo sapere una cosa come viene calcolata la giacenza media di 5000 euro perché allora voglio dire sto mi rendo conto perché è una fattispecie molto ricoverente le banche rilasciano il certificato giacenza media molto spesso dietro al pagamento allora molto spesso i funzionari ci dicono come possiamo ovviare allora siccome la giacenza andrebbe fatta con la ponderazione giornaliera sarebbe una cosa assai difficile molto spesso per evitare di sostenere la spesa della certificazione bancaria che a volte è anche abnorme rispetto alle giacenze cosa fa il funzionario semplicemente prende la giacenza di conto di fine trimestre sono 4 trimestri si prende praticamente la giacenza di ciascun trimestre si somma e si divide per 4 questa è una soluzione che non è arbitraria è fondata su un calcolo matematico e può consentire di ovviare a quella che è il costo perché alcuni istituti lo chiedono per il rilascio della certificazione attestante il saldo medio e peraltro ha un suo razionale perché così viene applicata l'imposta di bollo di prelivo col sostituto della banca quindi vuol dire ha un suo diciamo ragionamento razionale l'abbiamo fatta diciamo in questi anni io andrei alle conclusioni se siete d'accordo raramente ho visto talmente tante domande suscitate dagli interventi che dimostra che questa conferenza risponde a un bisogno assolutamente reale pressante ed urgente quindi confermo l'impegno anche se naturalmente in questo momento mi impegno a nome degli oratori non personalmente a compilare le domande che spesso sono molto simili in modo da potervi voi fornire sul nostro sito dove sono già stiamo adesso caricando tutti gli slide tutti i documenti che erano disponibili che avete già ricevuto almeno quelli che si erano iscritti in precedenza in modo che abbiate tutte le basi documentali abbiamo l'impegno di trasmettere le domande e le risposte debitamente anonimizzate rifletteremo perché ce lo state chiedendo ci chiedete a chi possiamo rivolgerci per essere aiutati in Belgio in Italia a mettere a vostra disposizione come facciamo per ogni altro contenzioso il sostegno necessario e tutta l'assistenza di cui potete aver bisogno è chiaro che ci sono delle domande molto specifiche personali il contenzioso tributario difficilmente può essere normalizzato e generalizzato quindi cercheremo di sintetizzare le domande più ricorrenti e più semplici la prima che mi sembra evidente stava già negli slide di Pierpaolo ma è evidente che faremo una specie di simulazione di chi non ha dichiarato i suoi conti bancari nel corso degli anni e qual è la sanzione che deve corrispondere perché alla lettura delle domande mi sembra che sia un problema assolutamente evidente l'abitazione principale l'abbiamo chiarita l'ultimo intervento ha suscitato una marea di domande su che cosa è il 2x1000 di che cosa rispetto a che cosa perché il Livre Verdi di cui stiamo parlando in Belgio produce degli interessi assolutamente risibili quindi se si devesse pagare il 2x1000 del Livre Verdi tanto vale aprire una serie di conti correnti per evitare eventualmente di dover pagare il 2x1000 un'altra delle domande simpatiche ma se io il mio conto lo moltiplico in tanti conti al di sotto del 5% non pago niente? diciamo che no se intrattengo praticamente più conti correnti presso lo stesso istituto la norma stabilisce in via antillusiva che i saldi in ciascun conto si cumulano e per modo che se supera il complesso 5000 euro l'imposta 34 euro in tia dovuta ma la norma trova applicazione anche nel caso in cui diciamo venisse sframmentato perché ecco sono tante i casi in cui il fisco si difende da questi comportamenti era una provocazione di un collega quindi io non posso che ringraziarvi ancora adesso lascerò la parola Alessandro per la conclusione penso che sia stata una collaborazione assolutamente proficua tra il personale e gli esperti che ci hanno assistito con cui cercheremo di consolidare la collaborazione perché ognuno di voi possa poi sottoporre personalmente il suo caso nel quadro delle attività professionali dei nostri ospiti all'esclusione mia di Alessandro e di Pierpaolo che non facciamo questo mestiere di consulenti finanziari ma faremo l'intermediazione perché voi possiate essere assistiti nel miglior modo possibile non so se Alessandro posso cioè dunque vorrei lasciare anche una una speranza una speranza ok la speranza assume la forma di questo spirito del 2011 lo possiamo chiamare cioè l'origine dell'esonero è viene da Bruxelles cioè non è che lo Stato italiano ha detto ma ci sono questi poveri funzionari fammi fargli un esonero ad hoc cioè ci fu un'iniziativa qui un coordinamento molto spontaneo tra funzionari anche di elevato livello preoccupatissimi per le loro abitazioni che mandarono una missione specifica a Roma a parlare con il capo del legislativo dell'agenzia delle entrate e fu fatto il da lì nacque il lodo maccanico no il lodo l'aderoga quindi si potrebbe pensare a una cosa simile per risolvere questo problema perché molti dei problemi sono tutti connessi con questa sovrapposizione del Livie Ivafe e RW quindi si potrebbe semplicemente dire che mi sembra una cosa molto di buonsenso spostiamo Livie e l'Ivafe dal quadro RW e lo mettiamo in un altro quadro della dichiarazione lo chiamiamo il quadro Ivafe o Ivie e quindi a questo punto siamo completamente scollegati dal discorso diciamo di questo rischio di confusione tra sanzioni dichiarative però per emissione di obblighi dichiarativi e siamo soltanto concentrati sul problema sostanziale che è il versamento delle patrimoniali ecco grazie grazie Cristiano e grazie innanzitutto ai miei colleghi Pierpaolo Rossi e Francesco Frattini per questa conferenza che come ha detto Cristiano ha dimostrato la sua utilità e il suo successo dalla valanga di domande che abbiamo ricevuto la mia sezione si impegna quindi a rispondere riceveremo da Cristiano da Renuvo Democrazia le domande magari compattate per evitare le duplicazioni e poi i nostri colleghi gli daremo un po' di tempo faranno delle question and answer che potranno essere pubblicate poi sul sito di Renuvo Democrazia un grande ringraziamento a Cristiano e a RD per per averci dato la possibilità di aiutarvi ripeto la nostra natività diciamo istituzionale ma di assoluto volontariato e nello spirito che caratterizza la nostra associazione in modo particolare la nostra sezione Bruxelles Unione Europea vogliamo continuare a sostenere i nostri colleghi nell'interesse loro ma nell'interesse anche del nostro paese insomma sapendo come ho detto in esordio che la legislazione fiscale italiana non è sicuramente tra le più complicate quindi ha bisogno di essere interpretata di essere spiegata e poi se necessario come ha detto Pierpaolo la nostra sezione si può rendere diciamo parte attiva come già lo è stato in passato Pierpaolo non lo vuole dire ma si è radicato proprio lui personalmente a Roma a discutere io avevo avuto dei contatti con l'allora vice direttore delle entrate che peraltro era un ufficiale della guardia di finanza che ci aveva confessato che in effetti loro non pensavano proprio non pensavano proprio ai funzionari europei però qualcuno ci aveva obiettato ma forse era meglio stare zitti no in Italia questo è un sistema che non funziona perché poi basta che si entra uno o qualunque entra nel mirino dell'agenzia delle entrate e succede uno scatafascio insomma tenendo presente anche che purtroppo in Italia come diceva l'avvocato Fratini diciamo l'applicazione della norma fiscale a volte non è univoca cioè ogni ogni sede locale dell'agenzia delle entrate a volte c'è la sua interpretazione quindi per avere un approccio univoco sarebbe opportuno anche avere una partenza una linea difensiva e di tutela degli interessi che sia univoca come è stato fatto a suo tempo appunto e ha portato a questa modifica a vantaggio dei funzionari italiani ripeto la nostra finalità non è quella di far pagare meno imposte o avere delle situazioni di privilegio ma è quella di riconoscere effettivamente le difficoltà le abnormità che a volte si sono create nella legislazione che non ha pensato appunto ai funzionari italiani i funzionari internazionali di origine italiana ma che però per sulla base di questo cosiddetto privilegio dell'immunità che poi è un privilegio a doppio taglio è più un inconveniente che un privilegio ci porta sotto la lente di ingrandimento del fisco italiano quindi grazie a tutti grazie a Cristiano grazie a RD grazie a chi ci ha ascoltato con molta attenzione e molta pazienza e speriamo l'anno prossimo di ripetere lo stesso esercizio tengo a ringraziare tutti i colleghi che stanno inondando la chat di ringraziamenti per l'iniziativa che è una bellissima conclusione rispetto ai primi messaggi che erano le giuste lamentelle per il sistema che non funzionava e penso di poter concludere che mai la Guardia di Finanza è stata così popolare presso i contribuenti come il vostro intervento di oggi ha dimostrato grazie a tutti grazie a tutti